Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Bene, lasciate un attimo che vi racconti come è tutto iniziato. Era l'11 di agosto e ci siamo incontrati con un amico di mio padre e la sua famiglia. Insieme abbiamo deciso l'indomani di andare a fare una bracciata dal lato di Montevergine, che è un piccolo paesino di montagna, insomma, in provincia di Avellino, che fa parte della città di Mercogliano. Prima di tutto siamo arrivati al santuario di Montevergine e da lì ci siamo spostati poco più sopra per arrivare all'area picnic. Niente, direi che vi auguro buona visione. Niente, direi che vi auguro buona visione. Siamo arrivati a Montevergine, il paesino. Dobbiamo salire ancora per andare a fare picnic, ma ci rivediamo dopo. Intanto vi faccio vedere dove siamo. Beh, direi che non è male. Abbiamo fatto uno stradone pieno di curve e siamo arrivati al santuario, o almeno quasi. Sì, continueremo a piedi. Da Annarella, non voglio andare. Fa caldo. 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 E niente ragazzi siamo all'interno del santuario abbiamo fatto il giro dalle clip che avete visto prima adesso siamo fuori stiamo guardando un po il panorama e comunque tutto all'esterno adesso ragazzi stiamo raggiungendo l'area picnic dove andremo a fare poi l'abbracciata intanto siamo saliti un po più sopra il santuario e qui a mie spalle in teoria si dovrebbe vedere qualcosa non lo so perchè ho tutto il sole negli occhi ragazzi c'è I just carnet Debi Ok prima che mi azzeccavo a terra stavo dicendo siamo arrivati all'area picnic adesso vi faccio vedere Ciao Zufa Eccoci qua abbiamo un tavolo il coso con le bici gli altri tavoli e qua sopra dove vedete queste pietre la brace e niente ci rivediamo tra poco comunque io non c'ho parole non so come ha fatto a cadere da sola vabbè vabbè andiamo a mangiare va che è meglio ce l'abbiamo fatta ragazzi dopo un'ora e mezzo di tentativi ci siamo abbiamo mangiato non ho ripreso perchè giustamente io quando mangio sacro non riprendo e stiamo scendendo giù al santuario perchè poi dopo ce la dobbiamo fare anche in salita la cosa bella e dobbiamo andare in bagno quindi stiamo andando lì non ci sono bagni questa è la salita che prima abbiamo fatto a salire appunto e manca ancora tutto un altro pezzo vabbè noi dobbiamo arrivare laggiù eccoci al santuario vabbè a scendere è meglio il problema sarà dopo al salire ok ragazzi siamo arrivati in bagno missione compiuta il santuario è alle mie spalle però quella che abbiamo fatto a scendere adesso ce la dobbiamo fare a salire male a tratti malissimo guardate quanto è rivida sta salita ovviamente rigorosamente muniti di mascherine e auguratemi buona fortuna ho l'affanno però però il panorama comunque ci sta poi vabbè giù dal santuario si vede ancora meglio però comunque ci sta lo stesso torniamo giù non non è è è Grazie a tutti Siamo tornati dove eravamo stamattina Ci siamo invocati nel bagno del bar E niente ragazzi direi che il vlog può finire qui Sono passati alcuni giorni da quando ho iniziato a editare il video E da quando ho fatto la clip che avete visto all'inizio del video E niente spero che il video comunque vi sia piaciuto Se così statevi lasciate un bel pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video Bella